La dimensione sociale dell'evangelizzazione nella Evangelii Gaudium è stato questo il tema del convegno organizzato dal Movimento Rinascita Cristiana, movimento ecclesiale formato da laici fondato nel 1944 tenutosi all'interno del Museo Diocesano del Seminario Vescovile. Al convegno in cui si è discusso dell'importanza della prima esortazione apostolica di Papa Francesco, appunto l'Evangelii Gaudium promulgate il 24 novembre del 2013, hanno partecipato Don Calogero Panepinto che ha relazionato sul tema delle ripercussioni sociali del cherigma, Don Calogero Di Vincenzo e Pietro Cavaleri che hanno trattato i temi dell'evangelizzazione secondo il movimento di nuova immagine parrocchiale e dell'evangelizzazione nelle periferie esistenziali. Presente inoltre al convegno il segretario nazionale del Movimento di Rinascita Cristiana Francesca Sacchi Lodispoto. A moderare l'incontro Maria Scichelone Mangione è responsabile cittadina del movimento. La riflessione nasce da due motivi, uno le sollecitazioni ovviamente di Papa Francesco che ci ha invitato tutti ad aprire gli orizzonti, ad uscire e andare verso quelle periferie che non sono solo le periferie geografiche ma anche quelle della nostra esistenza, l'indifferenza, le marginalità eccetera e l'altra perché il nostro movimento Rinascita Cristiana ha sempre unito fede e vita per cui per noi non è un discorso nuovo, noi abbiamo sempre pensato che la fede si coniuga nella vita di tutti i giorni al contatto con quelle che sono le sfide del mondo, della storia, soprattutto delle nostre città perché poi è lì che noi viviamo. L'Evangelii Gaudium è un'esortazione apostolica di Papa Francesco. Il tema di fondo è quello dell'evangelizzazione, alcuni parlano di nuova evangelizzazione, altre di rievangelizzazione perché ci troviamo in un mondo in cui, come dicono i vescovi, c'è una carenza di conoscenza del cristianesimo e delle verità del cristianesimo. Però il Papa dice che l'evangelizzazione, che parte ovviamente dal primo annunzio dell'evento Cristo e in modo particolare anche del mistero pasquale di Gesù di morte e di risurrezione che è fonte di salvezza per ciascuno di noi e per tutta l'umanità, non può chiudersi in modo autorreferenziale dentro le comunità cristiane. Ma il Papa vuole una chiesa, lui dice, in uscita missionaria. Grazie.